Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del mondo di Beastard Oggi andremo a fare il mega fossato gigantesco intorno al castello Vi dico subito che purtroppo... Intanto prendiamo queste frecce qui Che qua sicuramente qualcuno è bruciato al sole Vi dico che purtroppo qua sotto... Ah, un osso buono mio Non c'è assolutamente nulla Vi ricordate i blocchi quelli strani mai visti? Ci sono stati tantissimi di voi Io gioco a Minecraft da 8 anni e non li ho mai visti Ragazzi, ho qua incominciato a scavare Mi sono fatto un paio di picconi in ferro Come vedete ho scavato un po' qua Tutto qua sotto Poi tutto da questa parte ragazzi Sia qua che poi qua sotto Cioè ho scavato un po' qua attorno E non c'è assolutamente nulla Questi blocchi così rimangono un mistero Vedete se schiaccio il tasto destro anche non si girano Perché qualcuno ha provato a dirmi Che potevano essere dei blocchi Tipo una chiave che bisognava sistemarli Altri che portano a miniere infinite di diamanti Cioè di tutto e di più Altri semplicemente hanno detto Vistar magari è solamente un bug Però ragazzi mi sembra strano Che ci siano 4 blocchi così sospesi per aria Illuminati confirmed Non lo so ragazzi È un po' strano Io non li ho mai visti Nessuno di voi li ha mai visti Magari proverò a interpellare Qualche esperto di Minecraft Qualche youtuber famoso Vediamo un po' cosa ne sanno loro Se no ragazzi potete anche voi andare E rompergli anche voi le scatole Però o è un bug tranquillo O non so ragazzi Questi blocchi io non li ho mai E poi mai visti Anche in creative questi blocchi non esistono Almeno io non li ho mai visti E boh Quindi questo qui ragazzi È un mistero da risolvere Non so Magari è solamente un bug Il gioco che ci trolla Non ne ho la più pallida idea E quindi detto anche ciò Noi possiamo uscire di qua Come vedete qui Ho già incominciato tipo a fare Un po' le misure Per fare appunto il mega fossato Poi dovremo andare a prendere la lava Perché non ce l'ho ancora Ma però ragazzi secondo me Un fossato Allora di uno no Perché magari Possono Saltarlo zombie E via dicendo Anche se non saltano però Onde evitare Anche coi ragni magari Tutte le creature più strane del mondo Lo facciamo Lo facciamo di due Così siamo veramente Strassicuri Che qua Non ci passa più Nessuno ragazzi Dovrei farmi la pala Cavolo Ce l'ho anche In diamante Magari vado un attimo Più veloce Avevo anche quella con tocco di velluto Cavolo Allora Fatemi finire un attimo qui Come vedete anzi Vi faccio un po' vedere Qui ho fatto tutto da due E poi anche qui Andremo a spaccare Tutto quanto così E poi qui Secondo me Ci metto la lava Ci metto assolutamente La lava Perché Non lo so Spero di non finirci Mai dentro Però Con la lava È molto molto più cattivo Un castello E quindi Opteremo Per Quella lì Qui ci sono i maiali Questa volta Quando costruisco Ragazzi Non ci sono polli Ma c'è Questo carissimo maiale Che magari poi Ce lo faremo Arrosto Con un bel purciello Arrosto ragazzi Vai così E poi qui Uno e due Poi qui anche Si deve spaccare Uno e due Allora cavolo Anche questo qui Va via Uno e due E poi Così ragazzi Uno Due Perfetto Sì Devo farlo Esattamente Di questo Perimetro qua Allora Rifiniamolo un attimo Poi vado a sistemare Un attimo L'altro pezzettino E siamo A posto Allora Uno e due Eccoci qua Perfetto Veramente Perfetto Qui posso farlo Anche così Tanto non cambia Assolutamente nulla Qui magari è meglio Se Ricopro Tutto Quanto Così Perfetto Togliamo Questo blocchettino Ragazzi Togliamo Questi due E adesso Vado un attimo A rifinire La E Direi che È finito Ragazzi Il perimetro Qua è finito Ci manca Solamente Poi Tutta Quanta La lava La lava Che per fortuna Qua Ho un vulcano E voi Continuate a scrivermi Nei commenti Scrivetemi Continuamente Come al limite Potrei sistemare Questo fossato Se basta Solamente così O se faccio O se faccio Magari Qualcosa Problema Perché qui Si è bruciato Tutto Il ponte Porca Di quella Vacca Ragazzi Spegniti Non mi ero Completamente Accorto In pratica Niente Non abbiamo Più il ponte Elevatoio Vabbè Che faceva Schifo Però Prendere Fuoco Così Vabbè Ragazzi Io qui Come vedete Ho messo Tonnellate Tonnellate Di lava Come vedete Un blocchettino Da due Non è niente Niente male Da vedere L'ho messa Solamente Qua al lato Perché se no Ci impiegava Ancora Molto Molto Di più Vi faccio Vedere Un po' Anche Dove ho messo La pozza Lì c'è La nostra Bellissima Pozza Di lava In pratica Ho utilizzato Già Un buco Che c'era Nella terra Qui c'è Tutto Quanto E Niente Vai Andiamo A cercare Un dispenser Che mi pare Che fosse Là giù In fondo E poi Provo a metterlo Esattamente Qua O se no Anche qui davanti Ragazzi Posso mettere Dei dispenser Dove No Dai li proviamo A mettere Qua in alto Si sulle torri Li mettiamo Poi non so Quanti dispenser Devo fare Poi magari Sarete anche voi Ragazzi Nei commenti A dirmi No Bistard Mettili esattamente In questa posizione In quell'altra E via dicendo Ragazzi Io proverò magari A metterne uno Devo vedere Anche Con la pietra rossa E tutto quanto Che non sia un po' Un casino Allora Fatemi intanto Prendere Dispenser Pietra rossa E una leva Ed eccomi qui Tornato Come vedete Dall'inventario Ho preso anche Cioè Ho fatto dei bottoni Cioè dei pulsanti Più che altro Delle leve I distributori Ho fatto un po' Tutto quanto Ragazzi Quello che ci può Servire La lava Ce ne ho ancora una Perfetto Allora io dicevo Di provare A metterla Esattamente In questa posizione Però così È un po' Un casino Ragazzi Prova a metterla È un casino Qua Perché o la devo mettere Qui Al posto Della zucca E la zucca Posizionarla Da qualche Altra parte Intanto Ragazzi Facciamo così Proviamo a togliere La zucca Dammi qua La zucca Proviamo E facciamo Una No ecco Che sbaglia Già Perfetto ragazzi Sono riuscito a posizionare Il dispenser Quindi adesso Facciamo Una No Purtroppo così Non funziona Se metto direttamente La leva Magari Facciamo così Tiè Piazzati quello lì Siete pronti ragazzi Vai Funziona Funziona tutto Ragazzi Spettacolare Guardate come Casca giù bene Anzi Voglio andare giù A vedermela Tutta quanta bene Questa cosa qua Apriti Perfetto Porca vacca Mi sembrava che ci fosse qualcosa Invece era solo il fumo Guardate Che figata Questo qui Secondo me Non si fermerà mai E poi mai più Quindi devo stare Molto attento Poi ragazzi Qui a levare Anche questa cosa qui Però vedete Cade giù Perfettamente Dentro al fossato Cioè Fantastico Quindi abbiamo visto Che Questa trappola Funziona Adesso sarete voi Nei commenti A scrivermi Dove poter posizionare Questi altri dispenser Nelle zone più tattiche Del castello Ditemi ancora Come poter andare avanti Nella costruzione Di questo castello Io vi invito A lasciare tantissimi Mi piace Arriviamo a 7000 10.000 Mi piace So che ci siete Quindi sotto Quei pollicioni Ragazzi Non costa assolutamente Nulla Vi costa un secondo Quindi poi passate Anche nella pagina facebook Iscrivetevi al mio canale Qua da Bistard Per oggi è tutto E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Grazie per la visione!